Carabinieri Roma, buongiorno, mi dica Via Cardinale Caprara numero 28, mi hanno fatto una rapina, il tappaccaio Cardinale? Cardinale Caprara 28 Roma è giusto? Sì Ma è giusto un aero, no? Erano due, uno motorino, uno è entrato, portato con la pistola Avanza da centro Attenzione, massima urgenza, portatevi in zona quartieri spagnoli, civico 32 Occhia di due misti stranieri appena rapinati da due soggetti giovani armati di sola Sono annontanati a porto di un T-Max colore nero, sconosciamo la tarta Una delle vittime è pulita la testa, fare massima attenzione, massima potera Veneteci informati Se è avuto, ci portiamo A presto, ci portiamo Allora, però, perché sta chiamando 112? Mi dica di che cosa ho bisogno? Allora, però, perché sta chiamando? Mi dica di che cosa ho bisogno? Mi dica di che cosa ho bisogno? Amikよろしく! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.